e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel solito usuale e classico disordine della mia libreria allora cari signori mettetevi comodi perché questa sera si parla ovviamente male di un mito dell'aviazione tedesca ovvero sia il Messerschmitt 163 eccolo qua il piccolo intercettore con propulsione a razzo per difesa di punto che è diventato un mito della storia dell'aviazione che è diventato leggenda questo è il tre viste come vedete anzi il quattro viste scusate come vedete creato dal genio di Alexander Lippisch il Messerschmitt 163 Comet ebbe una breve e non propriamente brillantissima carriera carriera bellica allora bene o male credo che conosciate tutte tutte le caratteristiche alimentato da un motore a razzo a propellente liquido decollava con un carrellino sganciabile atterrava su un pattino ventrale raggiungeva velocità elevatissime perché toccava i 960 chilometri orari cioè basti dire una cosa velocità massima 960 chilometri orari a 10.000 metri praticamente Mach 09 non so se rende l'idea 830 chilometri a quota 0 e velocità di crociera 796 chilometri orari tra i 3.000 e i 9.000 metri saliva inizialmente a 81 metri al secondo toccava i 12.000 e saliva fino a 9.000 in 2 minuti e 36 secondi a 12.000 in 3 minuti e 30 secondi aveva un raggio d'azione di ben 35 chilometri e dico 35 oppure 80 100 chilometri al massimo circa dai due minuti e mezzo agli otto minuti al massimo di autonomia di volo era armato con due cannoni rain metal mk 108 da 30 mm alla radice delle ali e una batteria senza rinculo sg 500 yacht faust con 10 colpi da 50 mm per il tiro obliquo verso l'alto una installazione che fu provata su sei esemplari insomma un aeroplano piccolo elegante aerodinamicamente molto avanzato perché era progettato da quell'assoluto genio che rispondeva al nome di alexander lippis guardate qua questo è uno spaccato estremamente interessante il carrellino che si staccava al decollo il patino ventrale per l'atterraggio insomma un aereo innovativo un aereo oserei dire interessante per tanti punti soprattutto su quello aerodinamico per la sua struttura di di aereo senza coda eccolo qua cioè era senza il timoni di profondità in coda un aereo che il genio di alexander lippis riuscì a rendere operativo ma che siamo sinceri ebbe una carriera breve disgraziata e soprattutto estremamente problematica e tormentata insomma siamo sinceri pilotarlo era un incubo non tanto in volo ma per il decollo e per l'atterraggio cioè il decollo vi lascio immaginare c'è un propulsore razzo alimentato a liquido cioè che si accendeva con la combinazione di due liquidi idrato di idrazzina e perossido di idrogeno ad altissima concentrazione che erano combustibili insomma che erano propellenti estremamente tossici e molto 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 pericolosi la carriera lo sviluppo del comet praticamente iniziò nel 1942 e si giunse ad un debutto operativo più o meno nel gennaio 1944 quando praticamente il primo reparto operativo sui comet iniziò a effettuare missioni la prima delle quali la prima delle quali avvenne il 13 maggio 1944 che vi devo dire un aereo che combinò come dire decisamente poco cioè siamo sinceri siamo sinceri in un breve video come questo dire tutto per filo per segno è praticamente impossibile la questione è semplicemente questa i comet fecero diverse intercettazioni di bombardieri alleati e ufficiosamente si dice che ne abbiano abbattuti tra i 9 e i 16 vabbè registrando dalle 10 alle 14 perdite vabbè il 163 ripeto era una macchina estremamente complessa il cui unico pregio era la velocità massima di 960 chilometri orari a 10.000 metri di quota però come vi ho già detto l'autonomia di volo era variabile tra i due minuti e mezzo e gli otto minuti e questa caratteristica fece declinare rapidamente l'impiego di questo piccolo intercettore tant'è che dopo il febbraio 1945 dopo neanche come dire dopo neanche otto mesi di uso dopo neanche dieci mesi di uso e fu praticamente quasi pensionato l'attività bellica del comet pare che finì con le due missioni del 10 aprile 1945 e poi stop c'è da dire che anche i piloti italiani dell'aeronautica nazionale repubblicana furono alcuni piloti 16 per la precisione se non ricordo male furono addestrati per l'uso del 163 insomma per l'uso del comet praticamente questi piloti della ANR tra il dicembre 44 il febbraio 45 questi 16 piloti del primo gruppo caccia della ANR fecero il corso di preparazione al comet che avveniva tramite l'impiego di aliante dal carico alare via via crescente a simulare le condizioni operative insomma il comet nonostante le apparenze non era sicuramente un moderno avvio oggetto da intercettazione perché la realtà era completamente diversa e molto 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 più amara allora se si analizza con un attimo di distacco e di serenità il progetto del meshesmi 163 bisogna mettere che il 163 era una via di mezzo tra il castigo di dio e la bestemmia più totale innanzitutto occorreva rifornire l'aereo con due diversi tipi di propellente l'idrato di idrazzina e il perossido di idrogeno ad alta concentrazione ok erano propellenti di difficile manipolazione e pericolosissimi sia per il personale a terra che per il pilota ed erano tutti costretti a indossare appositi indumenti protettivi punto inoltre il motore razzo che spingeva il comet era intrinsecamente inaffidabile e ogni volo era si trasformava in una sorta di rischiosissima avventura anche se e qui bisogna dire la verità il comportamento dell'aereo in volo era decisamente migliore di quanto ci si poteva aspettare perché era un aereo che volava sorprendentemente bene nei pochi minuti di autonomia era un aereo che andava bene che si pilotava bene che si guidava bene ma il problema non era tanto l'inviluppo di volo il problema erano decollo e atterraggio soprattutto l'atterraggio che era pericoloso sia perché c'era la possibilità che residui di propellente non bruciato causassero esplosioni o incendi sia perché il pattino ventrale era decisamente poco ammortizzato e procurava fortissimi scossoni al seggiolino del pilota con relativi scuotimenti contusioni lesioni e fratture al povero pilota che si trovava dentro quella specie di suppostina da un punto di vista operativo poi l'idea folle di impiegare i 163 singolarmente o comunque in non più di tre quattro cinque esemplari alla volta contro centinaia per non dire anche migliaia di bombardieri era un assoluto non senso in più chi pilotava il comet aveva a disposizione non più di tre secondi uno due tre per puntare e sparare se non voleva correre il rischio di stamparsi contro il suo bersaglio inoltre c'è anche da dire che la cadenza di tiro dei cannoni mk 108 da 30 mm non era altissimo ed erano dotati soltanto di 60 colpi ciascuno quindi è comprensibile che solo un pilota con i nervi particolarmente saldi poteva tentare un secondo passaggio dato che c'aveva soltanto un'autonomia di 230 secondi che sono insomma siamo sinceri un po pochini ok le potenzialità operative cioè siamo seri le potenzialità operative del 163 erano decisamente scarse e il suo impiego operativo l'impero l'impiego operativo del comet presentò sempre con sede grossi grosse grosse grossissime difficoltà e però il comet fu molto ammirato per via della sua velocità assolutamente fantastica quindi quindi questa macchina il 163 interessò le forze armate giapponesi e diversi costruttori sovietici dopo la fine della guerra cioè in giappone fu sviluppato il j8 m1 per l'esercito o il ki 200 shuzui per la marina versioni giapponesi che non ebbero praticamente impiego operativo insomma un aereo il meshesmith 163 comet che nonostante la sua fama siamo sinceri in meritata era un aereo oggettivamente difficile per non dire quasi impossibile da utilizzare un aereo pericolosissimo per le squadre a terra e ancor più pericoloso per i piloti perché si parla di almeno una ventina di piloti morti in incidenti con il meshesmith 163 al decollo o all'atterraggio perché era un aereo decisamente difficile in quelle condizioni ripeto quando poi utilizzi come propellenti due carburanti che sono quanto di più tossico instabile e corrosivo ci sia sulla faccia della terra cioè guardate qua un attimo questo che vedete è il maggiore wolfgang spater il comandante del primo reparto operativo del primo reparto operativo con i meshesmith 163 quella che indossa è la tuta in tela gommata protettiva per evitare che i gas i vapori emessi dai due propellenti lo riducessero a una sorta di minestrone squagliato se capite quello che voglio dire perché se i fumi dei propellenti entravano nell'abitacolo stai più fresco che qualche bella lesione polmonare era garantita e ripeto il meshesmith 163 fece poco o nulla in guerra la guerra del meshesmith 163 ripeto ripeto 16 vittorie più o meno insomma 16 vittorie più o meno di fronte a perdite di 9 10 o 15 piloti non è un carniere propriamente esaltante metterete anche voi un aereo ripeto che per quanto abbia un aspetto tuttora moderno filante che sia un capolavoro di aerodinamica perché ripeto in volo si comportava sorprendentemente bene i guai erano veramente decollo e atterraggio perché ripeto il decollo avveniva con un carrellino sganciabile l'atterraggio avveniva su un patino ventrale che doveva ammortizzare la macchina in atterraggio eccolo qui lo vedete questo sarebbe il patino retrattile il carrellino sganciabile il patino retrattile sul quale il 163 doveva atterrare io non invidio minimamente i piloti che hanno dovuto guidarlo e vi lascio immaginare insomma al netto delle leggende al netto del mito al netto della come dire mania delle fissazioni di certi personaggi il messer smith 163 non poteva per sua stessa struttura per gli stessi limiti della sua cella il messer smith 163 non poteva assolutamente avere un futuro come aereo da caccia perché non facilissimo da pilotare non facilissimo da usare come arma da guerra insomma in tre secondi tu devi puntare e sparare un bombardiere e poi filartela sperando che la spinta del propulsore regga ancora per pochi preziosi secondi prima che ti si spenga e che tu diventi un sì seppur velocissimo ma insomma c'era di che veramente perdere alcune decine di anni di vita a essere piloti di a essere piloti di 163 una macchina che ha sì lasciato un una traccia indelebile nella nella storia dell'aviazione eccolo qua ma anche una macchina che si è rivelata un clamoroso vicolo cieco alexander lippish quando è emigrato in america negli anni alla fine degli anni 40 primi anni 50 perché lippish ricordiamocelo era un autentico genio dell'aviazione un grande innovatore dell'aviazione a lui si devono grandi aeroplani americani tipo i convert della serie dart o delta dart quelli sono veramente prodotti da lippish progettati e prodotti da lippish ma lippish diciamo aveva studiato in base alle sue conoscenze dell'epoca un aereo la cui carriera avrebbe sicuramente essere potuto migliore se si fossero riusciti ad eliminare i gravi difetti strutturali e tra virgolette concettuali che affliggevano il 163 insomma ripeto un'occasione sprecata un vicolo cieco l'ennesima dimostrazione che i tedeschi quando ci si impegnavano veramente non riuscivano a combinarne una dritta una giusta perché perché gente gente con un'autonomia di otto minuti va bene la velocità a 960 km orari ma con un'autonomia di otto minuti che cazzo ci fai dopo va bene ti si spegne il motore ti trasformi in un veleggiatore era un ottimo agliante anche il mesher smith 163 ma dopo se non riuscivi a mettere sufficiente spazio tra te e i mustang di scorta le calibro 50 dei mustang ti facevano non a fettine a strisce a cubetti e a straccetti perché nonostante la loro velocità inferiore i mustang riuscivano ad abbattere diversi 163 per non parlare poi di quelli che o in decollo o in atterraggio al suolo presero bellamente fuoco per colpa della terribile instabilità dei due propellenti usati dal motore a razzo che lo spingeva insomma mesher smith 163 comet un aereo leggendario un aereo famoso una delle grandi idee delle grandi pensate tedesche della seconda guerra mondiale ripeto eccolo qua in due disegni del maestro Enzo Maio un aereo che ha fatto poco nonostante il clamore che suscitò il comet oggettivamente fece molto poco per non dire niente però però si conquistò come dire imperitura fama per essere stato il primo caccia intercettore a razzo operativo anche se ripeto era un incubo da portare in volo un incubo da usare per mirare e colpire un incubo questo mi viene in mente quando si parla del si parla del mesher smith 163 un incubo per tutti indistintamente per chi lo usava e per chi ne era avversario perché perché un aereo così va bene può funzionare bene per intercettare le formazioni bombardieri ma quando a terra è molto facile che trovi una squadriglia di mustang decisi a fargli la testa che vi devo dire insomma signori il mesher smith 163 ve ne ho parlato brevemente spero di essere stato sufficientemente chiaro un aereo leggendario sicuramente non così indispensabile come in tanti vogliono credere ma indubbiamente un aereo storico leggendario e come dire celebre pur con tutti i suoi limiti o forse proprio per quello eccolo qui il comet questo è un esemplare del 1944 che decollava dalla base di bad schvizzenham e che vi posso dire non sopravvalutatelo troppo cioè troppa gente usa il comet come dimostrazione di quanto erano avanti i tedeschi in realtà ripeto ebbe una vita operativa di sì e no dieci mesi ok abbatté alcuni aerei alleati se non ricordo male una decina forse e dopo e dopo e dopo niente cioè rimase praticamente abbandonata come idea se vogliamo un vicolo cieco che non ha portato da nessuna parte e che al massimo è servito a lippish per fare pratica per le sue future creazioni con ala delta pura che come dire funzionarono decisamente bene lippish ricordiamoci era il progettista dei delta dart e dei delta dagger i suoi studi aerodinamici portarono a quegli straordinari e velocissimi aerei ma la sua creatura più famosa rimane sicuramente questa indubbiamente la più insoddisfacente poco da dire poco da fare messerschmitt 163 il fuoco al culo spesso e volentieri non ti porta da nessuna parte quindi cari signori spero che abbiate gradito il il video spero che abbiate apprezzato le immagini che vi ho fatto vedere dal numero 34 di febbraio marzo 2004 di aerei nella storia che aveva un bellissimo articolo scritto da nico sgarlato sulla genesi del del 163 di cui vi ho fatto una brevissima sintesi che dire che dire che dire che dire che dire un messerschmitt 163 quando ve ne parlano prendetelo sempre con il beneficio di inventario perché oggettivamente era una trappola anche molto pericolosa poco da dire e poco da fare quindi come sempre cari signori le mie brevi incomplete e forzatamente inesatte considerazioni sono queste voi pensateci su ragionateci su fatemi sapere che cosa ne pensate commentate scrivete io come sempre sono qua e che aspetto vostre notizie e che soprattutto conto di come dire scoprire qualche cosa di nuovo grazie a voi e di avere con voi le nostre solite stimolanti conversazioni quindi cari signori io vi saluto vi auguro la buonanotte e come sempre arrivederci al mio prossimo video buonasera grazie a tutti